Musica Cari amici di Antenna Sud, ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Ecco la situazione generale prevista per lunedì 23 gennaio. Correnti sud-occidentali sospingono addensamenti nuvolosi sparsi. Più presenti sulle regioni tirreniche con qualche precipitazione sulla Lucania. Nubi meno consistenti altruove con bassa probabilità di fenomeni. Ed ora vediamo più da vicino che cosa accade in Puglia. Sulla nostra regione tempo prevalentemente poco nuvoloso. Nubi sparse sul Tarantino e nebbia al mattino sulle Cese. Adesso spazio e le previsioni per la Basilicata ed il Molise. In Basilicata piogge deboli sul Potentino e alternate a schierite sul Materano. In Molise nebbie prevalentemente...